Hello to everybody! Mentre una volta le parole erano gaglioffo o sciamannato, i termini utilizzati in questo momento sul web sono per lo più transliterazioni della lingua inglese. E non tutti sanno cosa vogliono dire, per questo se non sapete dei termini questo è il posto giusto. Oggi inizieremo con la parola fire. A parte il mio disegno, fire vuol dire fuoco e viene usato anche molto l'emoji sui social network per dire che una cosa è fighissima, gozza, cool. Ma se fire indica qualcosa di positivo c'è la sua controparte flame che anche se il nome è abbastanza simile indica qualcosa di completamente opposto. Praticamente sono degli haters che amano creare dibattiti, scrivendo delle offese nei commenti e generando delle vere e proprie risse online chiamate flame wars. E sì, si divertono così. Se non sapevi questo termine, lascia un like qua sotto. Anche se lo sapevi ovviamente. E lascia nei commenti dei termini che hai visto o sentito dire ma non conosci completamente il loro significato. Iscrivetevi al canale e... ciao!